Anzi c'è un freddo polare, cioè manco essere a Polo Nord Aiuto! Le buche! Lina è aggressiva! Guarda che bella macchina! Hai visto la macchina? Si! La tua? No! Notizia speciale, lo Snoopy è chiuso! Aiuto! Ragazzi, siete pronti a vedere un video pieno di pazzia? Siete pronti al video del compleanno mio e di Diego? Vi invito subito a lasciare un mi piace già da adesso e buona visione! Ok, mi sa che è il momento di andare! Allora ragazzi, come è una situazione che in pratica mi avevo incalato all'inizio video ma sono a Modena per festeggiare il mio compleanno mio di Diego del Caramelo Diego e qui con me c'è una persona che... Ciao a tutti! Poca volta che compari! Si, poi poca volta ma io sono comunque presente da tutte le parti! Esatto! E sarebbe il nostro mago di fiducia morto! Esatto! Ciao a tutti! Follow me on Instagram, Morgan Capelli! No 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 no! Non c'è una cosa bella! Non c'è una cosa bella! E qui c'è... Che lei è presente anche in piscina quando si sfumava la prima solare! La giacca è a posto! Io mi fido! Comunque... Vai tu dietro di lui! È finita! Lo cavolo è finita! Ma c'è troppo zoom! Ciao! Ciao! Lo sai che è un canale YouTube? No, non dovessi! Me l'hai detto! Ah si? Ti sei iscritto al mio canale YouTube? No, non ancora! Ok ragazzi! Andate a cercare Cristian Esposito su Instagram e mettete le tante dislike! Tanto like! Dislike! Dislike! Esatto! Ma sei scemo! Allora... Cristian è la nuova guest star del... Guest star! Esatto! Eeeh... 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 Sai su tuo passaggio! Ma sei scemo! Ma chi è? Ma chi è? Giulia Vittoria! Ma direi di andare da Piazza Roma! Piazza Roma! Io sono in Piazza Roma, vecchio! In pratica oggi, è servito della mia festa di compleanno... Eeeh... Lui è uno dei invitati! Ci sono sia pomeriggio, cena e pub! Listo! Cioè! Lui è una persona brava che... Viene... Eeeh... In tutti i posti... Ovunque abbiamo... Solo perché sono disoccupato! Andiamo a Novi! Che incontriamo! Andiamo a Novi! Che incontriamo Giulio! Va bene! Adesso... Eeeh... Stiamo raggiungendo due persone, altri invitati e... Vedremo stasera quanti saremo! Novi! 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 si è persa perché ha capito male no 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 questo video qua non te lo guarderà una persona va capito che deve andare già a Vittorio e stiamo aspettando qua applausi applausi per G di Julio le persone che non fa cosa è Vittorio scusa le persone che non fa cosa è Vittorio è un cinema multisala anche lui comunque ragazzi deve fare la cosa di prima perché ha cercato colpa sua sua sempatia fatta persona comunque ragazzi per chi non lo conosce lui e morgan il nostro mago fa lo mio instagram va non ce lo faccio più a dirlo morgan cantelli non lo seguite ragazzi siamo abbiamo recuperato uno questo qui è una delle persone che stiamo aspettando ciao saluta Giulio tua mamma e poi quest'altra qua ok adesso stiamo dirigendo verso verso l'infinito e oltre esatto ma tu sei qua e poi c'è morgan là davanti e non c'è freddo vero Giulio che c'è freddo si c'è freddo tanto freddo finché mi fotte nei guanti c'è freddo cazzo e l'elen ha fottuto i guanti a Giulio poverino ragazzi c'è c'è freddo polare c'è manco essere a polo nord stiamo congelando comunque ce la faremo tra qualche secolo arriveremo in pizzeria non c'è niente però se non molestando giulia giulia stai bene giulia un pochino ho freddo è tedesca tedesca Elena pensavo a ok non ma mi mi ma mi mi ma è è è come on è 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 non so che cazzo stai facendo aiuto le buche oddio oddio è aggressiva tutto in calcio va 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 che bella scivolare va che bella macchina la tua macchina basta hai usato la macchina? si attimo no ce l'ha lui ok abbracci tutti qua ci vediamo muoviamo il culo please saluta ciao bello saluto ciao no 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 togliamoci cosa è successo cosa è successo? è che lo snoopi è chiuso si stai toccando della roba radioattiva con i miei guanti ma la della sua notizia speciale lo snoopi è chiuso ok aiuto è stato bello dai un bacino la smetti di dire male sono un bravo bambino è vero che mi metti una faccina? si io sono una faccina l'emoji voglio il diavoretto ah ecco fantastico si è perfida molto perfida molto poi è stato bravo non è un bacino è stato un bravo bambino ok ragazzi dopo una lunga camminata una lunga dal centro fino a qua cioè io non c'è non c'è il video non c'è il video un attimo 5 minuti mi stiamo chiamando dai salutate 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 eh eh mi dispiace eh scusami eh e qui abbiamo ah allora lui dopo in camminata e ti dice grazie e io giro quasi tutto il mazzo allora ragazzi per chi non lo sa Morgan è un mago e sono tutti noi ora guarda cosa faccio aspetta due due se guarda che c'è qua grazie se ed è finito Duzzo Duzzo è un po' in giro eccolo Duzzo 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 dai Morgan fai un trucco aspetta c'è Duzzo Duzzo ok sono controllando che le carte di Morgan non sono truccate vero? no non sono truccate facciamo insieme facciamo un trucco guarda il mazzo di carte io sono tutte carte normali quando tornate il mazzo ok faccio vedere tutte se volete che lo rimescoli lo teniamo così ora dividi i mazzi in due quale metta vuoi? questo ok facciamo un gioco ok una volta fino a quattro si vede la quarta carta cosa devi fare? devi svelare la quarta carta che è questa la quarta carta qua prima è Jack di picchia ok? uno due tre eschere eschere infazzito eeeh intanto c'è DJ DJ tutto carico DJ 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 di qualcosa DJ è imbambolato DJ è imbambolato in quadrature sgamo bravo come ieri sere che facevano finta di no no margherita è tua oh dico che cosa hai preso questa è praticamente una pizza margherita con la mozzarella di bufala ragazzi devi sapere una cosa ti dico mi vuole essere che hai un pezzo della mia pizza esatto perché lo sfira allora insomma io ti do un pezzo della mia e tu mi dai un pezzo della tua facciamo a canna insomma ci fa la buoni fratelli esatto bravo la buoni fratelli ho preso una pasta con pasciutto cotto e salsiccia e Diego con una dove? eeeh la bufala 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 è una bufala è un scherzo non è una pizza è di plastica no si chiama nuovo margherito tu cosa hai preso? io ho una bufala non male una bufala si tranquillo era tu l'altro nuovo margherito era tu l'altro nuovo margherito e cosa è? è piccante è piccante è piccante si chiama nuovo margherito è piccante si è vero sapere mangiare 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 hai fame? molto molto dico eeeh cos'è la cosa la chiedi di scena è tutta la storia e poi non ha visto non ha visto le cose le uova le uova le uova lì? come si dice? le uova le uova le uova le uova ragazzi ci dico che vuoi tagliare la pizza gentilissima faccio da camerino la stasera perché non so cosa si annoia quindi grazie Diego ci parla togliere eh? ci parla togliere grazie Elena, Elena ma come è bravo di mi tagliare la pizza me la stai agitando la ragazza Ma un po' caldo eh devo dire Ma caldo? Un po' caldo Ecco qua, prego Guardi ma Io boh, ma chi è stato? Un fantasma Un fantasma taglierio Ebbene ragazzi, penso che i video Si possa concludere qui Lo so, è durato molto Dovevo, perchè questo video qui Ci teniamo molto di rendervi Partecipi, tra virgolette La festa Di compleanno che abbiamo fatto Io e Diego, che tra l'altro Mi sono reso conto nell'editare il video Che ho perso due clip Non so come ho fatto Nestamente Nel perdere due file clip Del video Tipo la parte in cui Cioè dopo che è arrivata la torta In cui Insomma stiamo mangiando la torta E poi la parte L'ultima parte in cui Alla fine siamo andati Al pub Insomma A prenderci qualcosa Da bere Stare ancora, diciamo, in compagnia Dopo aver mangiato la pizza La torta, ecco Però posso risolvere In un modo Facendomi vedere Un po' Una storia su Instagram Che ho fatto E' un po' Quello che è stato Il dopo pizza Il dopo torta Sì, insomma Ci siamo abbastanza divertiti Anche dopo Paraltro questa clip Qui finale La sto registrando A distanza Di quasi Un mese Perché In pratica Come potete vedere Pure voi E' Precisamente Sono le 23 E 24 Del 30 dicembre Quindi ho scelto anche Proprio il giorno Adatto Per farvi gli auguri Visto che domani Sarà Il 31 di dicembre L'ultimo giorno dell'anno Auguravi Un buon inizio anno Un buon inizio 2018 E l'inizio Tutti quanti Nel migliore dei modi Io vi invito Come al solito A lasciare un mi piace Qua sotto Ed iscrivvi al canale Se non siete ancora iscritti A condividere il video Se volete vedere Ancora Dei video così Pazzi Oppure volete insomma Mostrare che Tutte Le feste Le cose che Organizzo Mi sembra A tutti i miei amici Fuori da piedi Sempre una pazia Tutti gli amici pazzi Lo so Niente noi ci vediamo presto Un nuovo video Nel 2018 Nel prossimo anno E Bella ragazzi Ciao 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 Ciao